Come veterinario ho cominciato a lavorare nel 1975 e per circa un anno e mezzo ho avuto la possibilità di verificare quali erano le patologie più diffuse che esistevano in quel periodo storico. Poi improvvisamente dal 1975 in avanti sono comparte tutta una serie di patologie che prima non esistevano e che erano veramente impressionanti. Parlo di ottiti, congiuntiviti, vomito, diarrea, dermatiti spaventose, infezioni all'utero, problemi all'apparato urinario, problemi di tutti i tipi e mi sono chiesto quale potesse essere la causa di queste nuove patologie e ho potuto verificare che il problema era collegato all'alimentazione e ancora più specificatamente ho potuto osservare che il problema era legato alle carni derivanti dell'allevamento intensivo. Si poteva notare che il pollo, il tacchino, il coniglio, il vitello, il maiale, il manzo provocavano delle reazioni negli animali. Quindi la domanda è stata come mai? Il problema era sicuramente legato alla presenza di sostanze estranee d'alimento, in quanto se tu davi da mangiare al cane del pollo, del coniglio, del tacchino allevato in sistema tradizionale dal contadino, l'animale non presentava alcun problema. Se mangiava la carne comprata al supermercato dal macellaio, subentravano tutta una serie di problemi. Era evidente quindi che c'era una causa estranea all'alimento e che non poteva essere altro che un inquinante chimico o farmacologico. Questa situazione mi ha permesso poi nel tempo di verificare che le patologie sono diffusissime e che attraverso un'alimentazione che elimini la carne derivante dall'allevamento intensivo, si ottengono dei risultati straordinari che non sono altro che tornare indietro con l'orologio nel tempo, cioè permettere all'animale di poter vivere in una maniera più normale possibile. Questo si può ottenere attraverso alimenti al pesce di mare e reintegrando la quota di Omega 3, che è indispensabile alla vita e che manca completamente nella maggior parte degli alimenti. Tutte le linee Forza 10 sono basate sull'utilizzo di proteine non derivanti dall'allevamento intensivo e sul riequilibrio degli Omega 3 e Omega 6, che sono indispensabili alla salute dell'animale e che negli alimenti per cani e gatti sono totalmente squilibrati.